In questo tutorial vediamo degli esempi sulle semplificazioni di radicali letterali. Ricordiamo innanzitutto queste due proprietà. Radice ennesima di x alla n risulta essere uguale a valore assoluto di x se l'indice della radice risulta essere pari. Radice ennesima di x alla n risulta essere uguale a x se l'indice della radice risulta essere dispari. Partiamo da questo primo esempio. Come prima cosa fissiamo l'attenzione sull'argomento del radicale. Abbiamo 8y alla terza. 8 lo riscriviamo come potenza di 2 ed otteniamo radice terza di 2 alla terza y alla terza. Ora posso applicare le proprietà delle potenze e mettere in evidenza l'esponente 3 radice terza di 2y elevato alla terza. Effettuo ora la semplificazione tra l'indice della radice e la potenza 3. 3 diviso 3 ottengo 1, 3 diviso 3 ottengo 1. Visto che l'indice della radice è 1, al passaggio successivo la radice non ci serve. Tenendo presente che l'indice della radice risultava essere dispari, allora andiamo a ricopiare l'argomento così com'è, ossia quello che otteniamo è 2y. Passiamo a questo secondo esempio. Come prima cosa riscriviamo 25 come potenza di 5. Radice quadrata di 5 alla seconda, x alla seconda. Applico ora le proprietà delle potenze e metto in evidenza l'esponente 2. Radice quadrata di 5x elevato alla seconda. Posso semplificare la radice quadrata con la potenza 2. Osservo che in questo caso l'indice sottinteso della radice è 2 e quindi n è pari. Allora vuol dire che l'argomento della radice lo dobbiamo ricopiare in valore assoluto. E quello che si ottiene è valore assoluto di 5x. Vediamo questi altri due esempi. Partiamo da questo primo caso. Abbiamo la radice quadrata ed un esponente 2. Possiamo semplificare la radice quadrata con l'esponente 2. Dobbiamo tener presente che l'indice della radice risulta essere pari. Quindi ci troviamo in questo primo caso. Dobbiamo ricopiare l'argomento della radice in valore assoluto. E quindi vado a scrivere valore assoluto di 5 più x alla seconda. Osservo ora che 5 più x alla seconda certamente è una quantità positiva, in quanto 5 è un numero positivo. x quadro è una quantità non negativa, quindi abbiamo la certezza che la loro somma è una quantità maggiore di 0. E allora vuol dire che non ci serve il valore assoluto e possiamo scrivere tranquillamente 5 più x alla seconda. Passiamo a quest'altro caso. Possiamo semplificare l'indice della radice con l'esponente 4 e quindi 4 diviso 4 ottengo 1, 4 diviso 4 ottengo 1. Visto che abbiamo ottenuto 1, la radice al passaggio successivo non la dobbiamo ricopiare. Quello che resta è x alla seconda più 6. Visto che l'indice risulta essere pari, dobbiamo ricopiare l'argomento in valore assoluto e scrivere valore assoluto di x alla seconda più 6. Osservo ora che x alla seconda più 6 certamente è una quantità positiva, in quanto x quadro è una quantità maggiore o uguale a 0. 6 è una quantità positiva, quindi complessivamente abbiamo una quantità maggiore di 0. E allora il valore assoluto non ci serve e possiamo ricopiare tranquillamente x alla seconda più 6. Vediamo questi altri esempi e partiamo da questo primo esercizio. Abbiamo l'indice della radice che è dispari, quindi questo segno meno lo possiamo copiare al di fuori della radice e scrivere meno radice quinta di x alla quinta. Semplifico ora l'indice della radice con la potenza 5. Quello che resta è soltanto x. Visto che l'indice risulta essere dispari, l'argomento va ricopiato così com'è. Tenendo presente che qui di fronte vi è un assegno meno, allora otteniamo meno x. Passiamo a quest'altro caso. L'indice della radice è 2. L'esponente di x più 3 è 2. Allora possiamo semplificare la radice quadrata con l'esponente 2. Visto che l'indice della radice risulta essere dispari, l'argomento della radice deve essere messo in valore assoluto e quindi dobbiamo scrivere valore assoluto di x più 3. Semplifichiamo questo radicale, abbiamo radice terza e potenza 3 e allora possiamo semplificare la radice terza con la potenza 3. Visto che l'indice della radice risulta essere dispari, possiamo ricopiare l'argomento così com'è e si ottiene 2x meno 1. Vediamo quest'altro esempio. Come prima cosa, 16 lo riscrivo come 4 alla seconda ed ottengo radice quadrata di 4 alla seconda x alla seconda. Posso ora mettere in evidenza l'esponente 2 e scrivere radice quadrata di 4x tutto quanto alla seconda. Posso ora semplificare la radice quadrata con la potenza 2. Tenendo presente che l'indice della radice risulta essere pari, l'argomento della radice deve essere scritto in valore assoluto e quindi otteniamo valore assoluto di 4x. Vediamo questi ultimi due esempi e semplifichiamo questo radicale. L'indice della radice 3 abbiamo come esponente 3 e allora possiamo semplificare la radice cubica e l'esponente 3. L'indice della radice risulta essere dispari e allora possiamo ricopiare l'argomento così com'è ed otteniamo meno 2 meno x. Vediamo quest'ultimo caso. Abbiamo radice quarta e potenza 4. Possiamo allora semplificare la radice quarta con la potenza 4. L'indice della radice risulta essere pari e allora dobbiamo ricopiare l'argomento della radice in valore assoluto ed otteniamo valore assoluto di y. E con questo termino il tutorial su esempi di semplificazioni di radicali letterali. Grazie. 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 Grazie.